Chi spera in te, Signore, non resta deluso, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non ci tratta secondo i nostri peccati. Con questa fede preghiamo per i Cardinali e Vescovi defunti negli ultimi dodici mesi. Menevica Dus, Omnipote Dheos, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Come on.